Ben trovati amici del centro medio italiano, clima ancora fresco in questi giorni sulla nostra penisola ma le temperature sono attese in progressivo aumento con valori che potrebbero risultare anche primaverili specie al sud. Attenzione però perché in vista di Pasqua l'arrivo di una perturbazione atlantica farà nuovamente scendere le colonnine di mercurio sull'Italia, da venerdì al centro nord complice l'area più fredda e il maltempo la neve tornerà a cadere fino a quote medie sulle Alpi e sugli Appennini, mentre sulle regioni meridionali le massime potranno raggiungere e superare ancora una volta i 20 gradi. Qui l'altalena termica sarà molto marcata con le temperature che sabato 31 crolleranno almeno di 10-15 gradi in quota e conseguentemente anche al suolo. Già domenica giorno di Pasqua però le temperature tenderanno ad aumentare gradualmente. Per tutti gli aggiornamenti proprio in vista delle prossime feste vi rimandiamo al nostro sito oppure al nostro canale youtube dove vi invitiamo ad iscrivervi. Un saluto da parte del Centro Meta Italiano